Ciao a tutti, benvenuti a Gioca con me, Giochi per bambini. Oggi sono qui con un set di Barbie, in particolare abbiamo il comodino della bellezza, come lo chiamo io. Cioè il comodino dove noi ci sediamo, ci trucchiamo, ci facciamo belle, ci pettiniamo, ci prepariamo per uscire. Fa parte del set di Barbie, ovviamente ci sono tanti altri set di Barbie relativi comunque alla casa e qui vediamo per esempio l'aspirapolvere, il letto, il tavolo, poi c'è per esempio la vasca da bagno, qui un altro comodino, varie altre cose, il frigo, tanti pezzi che potete collezionare per creare la vostra casa Barbie, per rifinirla totalmente. Qui abbiamo un pezzo importante per noi ragazze, cioè il nostro spazio mattutino, quello che utilizziamo prima di uscire, per prepararci, truccarci, pettinarci, come vogliamo. Vedete che qui abbiamo uno splendido comodino, uno splendido tavolo con questo ricamo in argento che in realtà serve per fissare i nostri oggetti, vedete, in modo tale che non cadano. I cassettini non si aprono, c'è uno specchio tenuto da queste due paie di scarpe, questo paio di scarpe col tacco. Qui abbiamo un vassoio che ha sopra questa, sembra una tortina, in realtà è cipria, il contenitore della cipria, che appoggiamo qui e lo fermiamo. Poi guardiamo cos'altro abbiamo. Abbiamo un pettine, abbiamo qui una scarpa che potrebbe essere, non lo so, ditemelo voi. A cosa potrebbe servire? Poi abbiamo una spazzola, ovviamente pettine e spazzola sempre presenti. Abbiamo un... come posso chiamarlo? Oh mio Dio, non mi viene il nome. Per stendere la cipria sul nostro... un pennellino, ecco, per stendere la cipria. Poi abbiamo un profumo, un dispenser di profumo. Poi abbiamo un manichino, vedete che in realtà funge da, in questo caso, magari porta orecchini, perché no? O comunque qualche collane, quello che vogliamo. Abbiamo un piccolissimo rossetto. E poi la nostra super sedia, bellissima, guardate che ha anche i laccetti come se fosse un corpetto e il fiocco finale. Una sedia molto molto bella, ovviamente tutto in stile Barbie, in colore Barbie, ovvero il rosa. E le tonalità del rosa che ovviamente è quello che contraddistingue le nostre Barbie. Eccola qui, allora adesso appoggiamo la nostra Barbie a cui abbiamo fatto taglio e colore la scorsa volta. A me piace tantissimo questo colore, non so a voi, ma è venuto davvero bene. Sta davvero benissimo. La mettiamo in posizione e la lasciamo preparare per l'eventualità di un appuntamento. Eccolo qui il nostro set. Molto carino, vi ripeto, potete collezionarli tutti per creare la vostra casa, per arredarla. Io spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciateci un like, commentate appunto dicendo cosa ne pensate, iscrivetevi al nostro canale per rimanere aggiornati con le nostre novità. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Grazie.